Ciao mi chiamo Anna Steidohart e mi conoscete come una cantante però io sono anche una professoressa della lingua italiana e della letteratura. Io adoro l'Italia, la musica italiana, il cibo, la lingua, tutto. Io sono professore italiani, anche perché mi conosco come spettatore, e mi piacevano l'Italia. E così si sente, allora è l'opravo mese da potete studiare l'Italia, la scuola Equilibrio.